Ok, adesso è iniziata la registrazione. Allora, innanzitutto mi presento ufficialmente. Io sono il professore Agostino Perna. Sono un professore di matematica. Poi, visto che non avevo niente da fare, mi sono laureato pure in ingegneria informatica. Adesso cerco di mescolare un po' la matematica con il mondo dell'ingegneria informatica. Tutto questo in un'ottica di didattica spendibile nel mondo scuola. Non mi occupo di attività al di fuori della scuola, ma preferisco rimanere all'interno del mondo scuola. Faccio parte dell'equip territoriale del Lazio e sono il matematico del gruppo. Oggi parleremo di Desmos. Vedremo come poter utilizzare Desmos per pensare e creare delle attività proprio nel mondo del digitale. Questo che significa? In questo periodo, probabilmente è capitato a tutti quanti noi, siamo in DAD, devo fare un compito. Il compito un tempo lo facevo così sulla bella carta. Ora ho il computer, ho Meet, qualunque altro strumento. Traspongo il compito online e poi lo correggo con la correzione in PDF. Attenzione, quello che si fa non è sbagliato. È un'attività. Però è un'attività, è da riflettere, pensata su carta, cioè sul 2D, un po' come la lavagna qui dietro. Questa è un'attività pensata sulla carta, sulla lavagna, sulla staticità della carta, che non è male, attenzione. È un tipo di attività. Con Desmos posso pensare delle attività proprio tipiche e native del digitale. Questa è una cosa dirompente. Per chi conosce GeoGebra già sa a cosa sto parlando, a cosa sto facendo riferimento. Quindi questa è una cosa molto, molto importante. Ora vado a condividere il mio schermo, allora, e in particolare voglio condividere la scheda, la scheda Chrome. Allora, quindi condivido e adesso dovreste vedere il mio schermo. Allora, vediamo adesso se riesco a spostare questa barra, che non mi ricordo come si sposta. Allora, annulla. Ok, allora, la prima cosa che dovete fare è andare su www.desmos.com. Questo è lo strumento che utilizzeremo. Allora, vi dico che adesso che ho lo schermo condiviso, io non riesco a vedere le vostre domande. Però, ecco, in questa maniera posso vedere anche le domande. Quindi vi chiedo la gentilezza di sentirmi per 10-15 minuti, poi quando dico ci sono le domande, magari scrivete. Ecco, in questa... cerchiamo di dare una idea. La Don Milani di Terracina è arrivata anche Francesca. Allora, quindi www.desmos.com. Questa è l'interfaccia. Noi lavoreremo solo ed esclusivamente online. Allora, la prima cosa che bisogna fare... Io cercherò di andare anche un po' lento, per quello che mi è possibile, diciamo. Voi provate a fare la stessa cosa insieme a me. Allora, la prima cosa che devo fare per iniziare a lavorare su Desmos è registrarmi. Prima di tutto, però, prima di fare la registrazione, vi faccio vedere quello che vi stavo parlando prima nei 5-10 minuti della conversazione iniziale. I finalisti del concorso d'arte matematica internazionale. Vedete Messico, Ontario, Hong Kong, eccetera, eccetera. Clicco, mostrami finalisti. Questi sono tutti i ragazzini dai 13 a 14 anni che hanno realizzato questi lavori. A me mi si riempie il cuore di gioia quando vedo Gaia e Davide. Gaia e Davide sono dei bambini che io ho conosciuto personalmente. Moreno mi dice, non cambia la schermata. Allora, lei dice, io non vedo. Allora, proviamo a rifare la condivisione. Allora, condividi. Allora, questo mi dà è vero la schermata. Allora. Texto, testo, start. Condividi. Scusate, adesso questo che non condivide. Applicazioni. Datemi un secondo, sto cercando di capire perché non condivide la schermata. Poi riprendo la registrazione. Allora, condividi. In questo modo vedete la schermata? Vedo, 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 ok. Perfetto. Allora, vi dicevo, questa era una gara dell'anno scorso sull'arte e la matematica. Questi sono due bambini, Gaia e Davide. Sono della Matteotti di Aprilia. Io e la collega, insomma, la loro insegnante, non è che abbiamo fatto nulla di particolare. Io avevo fatto vedere a questi bambini come si disegna un segmento, come si disegna un quadrato. E poi ho detto loro, guardate che oltre quello posso disegnare un'ape. Ho fatto vedere questo, di esempio. L'ape, il fiore. Ho fatto vedere cose molto, molto semplici. Non so se vedete la farfalla, ma comunque la copio e ve la posso mettere in chat. facevano la seconda media, come si dice. Di fronte a queste cose bisogna stare, cioè io mi sto zitto e basta, insomma. Perché sono stati, insomma, sono stati davvero, davvero bravi. Quindi, come si dice, l'insegnante è stata abile nel fornire qualche video, che poi è la stessa playlist che vi condividerò alla fine del webinar. E poi lasciate, provate, sperimentate. E questi bambini hanno creato queste cose. Ma se andiamo a vedere Sydney, Texas, California, Illinois, e poi ci sono due bambini d'Aprilia, insomma, questo può fare che piacere, insomma. Allora, quindi, dicevo, la prima cosa che bisogna fare, desmos.com, bisogna registrarsi. Allora, le possibilità sono due. Con l'indirizzo email, metto la mia email, posso mettere il nome o il soprannome, e poi la password. Oppure utilizzando il Google Login o l'Apple Login. Quindi questo lo decidete voi come registrarvi, senza problemi. Quindi questa cosa serve per accedere nel pannello di amministrazione, lato insegnante, dove c'è scritto qui, sono un insegnante. Io adesso accedo. Accedo facendo il Google Login. Ho tanti profili, perché così almeno posso fare le prove e vedere quello che succede. Allora, mi dice adesso, conferma la tua identità. Allora, devo confermare la mia identità. Ok, sì. Adesso mi è apparso questo numero. e confermo con il mio telefono. Ovviamente se uno si registra con una mail ed una password, questo controllo non lo si ha. Vedete che qui in alto, a destra, appare il Logico. Prova a ingrandire anche un po' il carattere. Ok. Ora, nel momento in cui io mi sono registrato ed ho eseguito il Login, ci sono mille cose da poter fare all'interno di Desmos. Noi oggi ci concentriamo soltanto in questa sezione Insegnanti. e vado a cliccare su Esplora attività. La registrazione degli studenti ne parleremo tra un attimo, perché vi dico subito che per alcune attività che noi facciamo, lo studente può anche non registrarsi. Cioè io metto, creo un'attività, metto il link dell'attività all'interno di Google Classroom, all'interno del mio registro elettronico. Io sono un bambino di quinta elementare, non è che mi metto lì a registrarmi tutti i dati. No, clicco sul link e faccio l'attività stop, senza nessun tipo di registrazione. Ecco perché lo reputo molto usabile anche per quelli più piccini, questo tipo di strumento. Se invece voglio, e sto pensando già ad una scuola primaria, o la mia bella Google Classroom, posso importare le attività di Desmos all'interno di Google Classroom. Le due cose collaborano tra di loro. Allora, vado su Esplora attività. Ripeto, tutto quello che vi sto dicendo ci sono già i video tutorial. Eccolo qui, Desmos YouTube, e non in elenco sul mio programma. Allora, accedo in questa sorta di pannello di amministrazione. Da un lato l'insegnante può vedere migliaia di attività già pronte. Schermate iniziali, precalcolo, algebra, vedete dove c'è scritto raccolta in evidenza? C'è algebra 2, quindi un algebra per la scuola superiore, precalcolo, funzioni, disuguaglianze, sistemi lineari, eccetera, eccetera. Sono scritte in inglese. Quindi se volessi fare anche un po' di matematica in lingue, non c'è assolutamente problema. Però ne parliamo dopo, perché queste attività, un po' come si fa con GeoGebra, per capirci, la posso prendere, me la copio nel mio profilo e poi la posso modificare, riorganizzare. Quindi la posso modificare a mio piacimento. Però io adesso... Fulvia dice, sono entrata con il nome, ma non si apre la videata studente-insegnante. Devi controllare se sei andata su desmos.com. Questa è la cosa importante. Se volete, rifaccio vedere di nuovo la procedura. Quindi, perché questa è la parte, diciamo così, l'unica parte un po' più rognosa. Desmos.com. Allora, rifaccio disconnetti. Tutto ok. Allora, disconnetto. Riparto da zero. Desmos.com. Accedo. Quindi da qui è impossibile non vedere studenti-insegnanti. Quindi se stai a desmos.com, CTRL-C, o vedo studenti o vedo insegnanti. Questa è la videata iniziale. Quindi accedo, riaccedo con il mio account Google. E vado su Insegnanti, Esplora attività. Allora, quello che mi interessa ora è qui. Personalizzate. In Personalizzate vado a creare i miei materiali. Poi c'è tutto il mondo intorno. Ma a me quello che interessa è Personalizzate. È da qui che si parte. Bisogna tenerlo a mente. Vedete dove c'è scritto le mie classi? Qui, se volessi, potrei creare delle classi virtuali. Quindi posso che mi sarà uno strumento utile per poi assegnare le attività. Ma questo lo vediamo dopo. Ora vado su Personalizzate. E ci clicco sopra. Queste sono un po' di attività che io ho realizzato. Allora, partiamo dalla fine. Perché voglio che voi simuliate il lato studente prima di tutto. Questa è un'attività che io ho realizzato. Se clicco qui vi faccio notare che posso modificare, collaborare. Ossia io, io ho creato questa attività. Ma vorrei introdurre delle domande di italiano, di inglese, di biologia, educazione motori, eccetera, eccetera. Quindi ho bisogno dell'aiuto dei colleghi. Quindi, cliccando su Collabora, posso inviare il link. Questo ve lo darò dopo. Oppure Condividi l'attività. Condividi l'attività e la mia collega di un'altra scuola o di un'altra classe strapiace quello che ho fatto, la vuole pure lei. Condividendo l'attività, se ne prende una copia che poi può anche modificare. Quindi clicco su Equip in libertà. Vi faccio vedere questa attività, ed è questa la cosa interessante, come l'ho io strutturata, è pensabile per un laptop. Quindi se ho un computer mi va bene, se ho un tablet si legge bene, però se avessi soltanto uno smartphone non è proprio l'ideale. Perché ci sono dei grafici un po' piccoli, quindi sconsiglia questa attività, così come è stata realizzata, anche per i telefoni. Se togliessi determinati tipi di domande, in particolare quelle con i grafici, quelli un po' piccolini, andrebbe bene anche per i telefoni. Allora, supponiamo che io ho creato questa attività, dopo vi farò vedere come si crea l'attività. La voglio assegnare ad una classe, la voglio inserire all'interno del registro elettronico. Allora, cliccando su assegna, in particolare su questo triangolino, vi faccio vedere le due modalità. Assegnare alle classi. Supponiamo che io ho già creato classe primo A, primo B, primo C all'interno di Desmos. Clicco assegna alla classe e lo posso fare. Però io voglio pensare questo tipo di attività per quelli un po' più piccoli. Scuola dell'infanzia, scuola primaria, non è che uno arriva, vede la mail, la notifica, potrebbe diventare un po' scomodo. Ma utilizzerò codice per attività singola. Con il codice per attività singola, tutti voi potete fare questa attività senza nemmeno essere registrati a Desmos. Ed è questa la cosa importante. Perché io vado a semplificare la vita dei ragazzini. Io clicco così, guardate, codice per attività singola. Ecco qui il codice che a me appare. Vado su Mostra la dashboard. Così mi appare un po' più in grande. Vediamo un po' se riesco. Eccolo, eccolo qui. Link per gli studenti. Allora, copio e incollo. Quindi, se avessi un registro elettronico, oppure su Meet o dove volete voi, potete dare direttamente questo link. Io studente, qualunque persona io abbia questo link, posso fare l'attività. Non mi devo registrare. L'altro modo è utilizzando il Join Code, ossia questo codice. Se ci ricordiamo, all'inizio, quando c'era la, su Desmos, c'era la sezione, e ritorno ve lo faccio vedere, Desmos. Vedete, studenti, insegnanti? Se io qui, all'interno di codice, vado a inserire il codice questo, eccolo qui. Lo ve lo ricopio anche questo in Chat. Inserendo qui il codice, posso partecipare in maniera completamente anonima. Quindi, vedete che non ci sono richieste di iscriviti, manda la mail, conferma la password, fai il login, oddio mi sono perso la mail. Quindi, per scuola, infanzia, primaria, ma vi posso garantire anche per le superiori, è una cosa molto pratica, molto snella. Nel frattempo che voi vi scrivete, guardate quello che succede. Ho un pannello dove vedo che Pietro Monaco, Antonio Moliterni, Marzia Petrelli, già si è registrata. Moreno Concezzi. Immaginate che magari stiamo facendo un'attività via Meet, e io dico, ragazzi, ecco il link, accedete, oppure vi registrate, non è importante. E poi condivido io, come insegnante, lo schermo. Quindi vedo che Pietro, Antonio, tutte queste persone, Fulvia, Sabrina, si stanno registrando. Per ora non fate niente, non andate avanti nell'attività, questa è una cosa importante. Poi, quando vi dico il via, scatenerete l'inferno. Quindi diventa un'attività di natura sincrona, fatta in questa maniera. Perché io potrei dire, ok, iniziate a lavorare, vedete Giulia, Bazzano, è arrivata Federica. Piano piano si stanno entrando tutti quanti. Quindi se stessi in un'ora sincrona, o se stessi in laboratorio, o se stessi in classe, potrei dire agli alunni, entrate, Antonio dice, lo conosco, questo mi fa piacere. Antonio, piano piano stanno accedendo tutte quante le persone. Vi faccio vedere perché è anche utile anche per una scuola dell'infanzia, ma non solo. Posso tutelare la privacy delle persone. Io non vorrei vedere Pietro Monaco, perché magari questa è un'attività che stiamo facendo con tutte le prime della scuola, per capirci. Potrei andare qui su Anonimia. Quindi vedo Florence, che è entrato, Archimedes, Jean-Pierre Serre, qui è arrivato Senecal, Hausdorff, Maxwell, Springer. Cioè, io non so, ho mescolato i nomi, quindi nessuno sa chi è l'altro. Soltanto il primo, ad esempio, Pietro Monaco, se clicco Anonimia, appare sulla sua schermata, Florence. Quindi questo è da tenere presente. Perché magari io dico, ragazzi, adesso iniziate a lavorare, fermi tutti. Vedete che sta succedendo? Giulia, vedete Giulia nel mio schermo? Ho la certezza che sta la domanda numero due. E questa è la cosa, perché io potrei dire, ragazzi, iniziate a lavorare. Adesso, chi è entrato all'interno della piattaforma, provate a risolvere il quiz. Perché è quello che succede. Qui c'è qualcuno che si sta muovendo. Lo vedete? Daniela. Vedete? Vedo che Daniela si trova qui. Ho tre persone, Morena, Giulia, e 22 alla prima. Quindi, immaginate, potrebbe essere come una telecronaca di calcio. E potrei dire, o con i nomi, o con i nomi finti. Dico, allora, la maggior parte, 25 persone, si trovano alla domanda numero due. Mentre possiamo notare come Moreno è arrivato alla domanda numero tre. Però ha sbagliato la domanda numero due. Sto vedendo che Pietro è arrivato ora alla domanda numero tre. Ora Pietro ha la domanda numero quattro. Guardate quello che succede. Potrei andare anche qui, cliccare, e vedere in real time cosa sta facendo Pietro. Allora, è apparso questo link. Vediamo perché. Torno indietro. Eccolo qui. Perché questa domanda era una domanda pensata per una scuola primaria, per capirci. È carnevale e voglio dare un po' di contestualizzazione alla matematica, perché se no sembra noi matematici strani viviamo in un mondo parallelo. Io ti dico, guarda la ricetta delle castagnole. Questo è il periodo di castagnole. Non sono un esperto di ricette, ti do il link di giallo zafferano. Probabilmente quasi tutti o tutti conosciamo giallo zafferano. Quindi, cliccando sul link, vado su giallo zafferano. E quindi educo il bambino, ad esempio in questo caso, o la persona che sta facendo questo tipo di attività, a decodificare una serie di cose. Cioè, io ti ho dato una ricetta, e devo stare attento a non perdermi su questa miriade di informazioni. Lo sappiamo tutti che quando siamo su internet tendiamo a perderci. Però, insomma, però qui, eccolo, l'ho messo qui, ho riepilogato il cuore di tutto, perché magari qualcuno si perde. E ho messo un testo. Mi dice, se alla festa di carnevale ci sono 12 invitati, come modifichi gli ingredienti della ricetta, sapendo che questa ricetta è pensata per 5 persone? Qui posso scrivere il mio risultato. Ad esempio, vedete dove c'è il pallino? Ad esempio, vado a vedere Sabrina. Clicco su Sabrina, e Sabrina sta iniziando, divido per, sta iniziando a scrivere. Magari scrivi, potrei dire, magari le do un suggerimento brava, un incoraggiamento. Sabrina dovrebbe vedere quello che sto scrivendo. Poi vedo, ad esempio, che Sara ha saltato la domanda. G desiderio è arrivato alla domanda numero 6. Quindi, vedete, io posso fare una radiocronaca di quello che sta succedendo. Potrei andare nella sezione riepilogo, insegnante. Lo vedete? Sono passato da riepilogo a insegnante, perché voglio vedere come si stanno comportando gli alunni che stanno facendo questa attività. Allora, Pietro ha disegnato bene l'elefante, Fulvia non l'ha fatto, più uno ad Elisa perché è stata l'unica che ha cambiato colore. E allora, mentre tutti quanti fanno questa attività, un elefante, eccetera, eccetera, potrei dire, vedete ragazzi, come facciamo in classe, passando per i banchi. Vedete, tutti quanti avete utilizzato il blu e Elisa ha fatto quel passo in più, ha cambiato il colore. A me, personalmente, queste cose mi piacciono. Allora, Cristina dice, per favore mi sono iscritta su Desmos, però non so come entrare nell'attività. Allora, c'era il link, il codice che era questo dell'attività e avevo inserito questo link che lo ricopio in chat. Lo ricopio in chat a tutti. Eccolo qua. Quindi è sufficiente cliccare sul link che ho rimesso per andare a vedere l'attività, per entrare nell'attività. Potrei vedere la domanda numero due. Qua dice, chi di questi personaggi si chiama Pulcinella? Allora, possiamo vedere le domande. Quindi 30 studenti hanno detto che questo personaggio si chiama Pulcinella, 12 no. Vedete qui, ad esempio, osservo che Dani ha sbagliato. Sti cavoli. Anonimia. Questo serve per proteggere la privacy delle persone. Piuttosto che dire, Dani ha sbagliato, magari è brutto, magari i ragazzi si imbarazzano di fronte a queste cose. Potrei invece dire, attenzione, Luis Ehi, guarda che hai dato la risposta non corretta. Anche tu, George Cantor. Per capirci. Quindi, in questa maniera, se voglio utilizzare questa attività in maniera live, ossia condivido il mio schermo con gli studenti, bisogna avere un minimo di accortezza. La cosa forte, che potrei fare anche gli screenshot. Cioè, che significa? Visto che ogni persona può modificare a suo piacimento le domande. Adesso metto così. Se faccio screenshot, posso aggiungere un'immagine. Cioè, faccio la foto di quello che sta succedendo. Quindi, potrei andare sul compito di Dani, ad esempio, e fare la foto di quello che sta apparendo. In questo modo. Oppure, darle un commento. Vedete? Ma questo commento lo vede solo Dani. Potrei dire, sei certa? Magari è un'attività, ci stiamo allenando. Quindi io, insegnante, piuttosto che dire di fronte a tutti quello che sta succedendo, che Dani ha sbagliato, le posso dare in maniera discreta questo suggerimento. E poi mi dice, schermata, numero due. Quindi, questa è una cosa, secondo me, molto, molto carina, molto educata. ribado sullo screenshot, posso aggiungere un'immagine. Allora, qui. Eccolo qui. Ad esempio, questa persona ha dato, Antonio dice, faccio le proporzioni. Vedete? se io clicco qui sulla foto, tac, ho fatto la foto di quello che ha scritto Antonio. Perché potrebbe capitare qualche furbetto del cartellino, che magari, mentre correggiamo l'attività, facciamo finta che sia un'attività dove metterò un voto, un bonus, eccetera, eccetera, torna indietro e modifica. Invece, facendo questa foto, come Marzia, divido per 5 e moltiplico per 12, tac, foto. Quindi, facendo le foto, poi, io me le ritrovo nella sezione screenshot. Vedi, ho fatto la foto di Marzia e di Antonio per vedere se non imbrogliano. Ma magari potrei dire no, potete modificare, perché ve ne dovreste rendere conto che alcune attività potete vedere le risposte degli studenti, ad esempio, come credo anche nella ricetta. E qui, vede, ad esempio, ma divido la quantità, eccetera, eccetera. Insomma, potrebbe essere comodo, magari vedo, che ne so chi ha scritto, ma G desiderio, magari lo vedo in difficoltà, potrei dire, guarda, che ne so, Santina, per favore, puoi dare una mano a desiderio che si trova in difficoltà? Stiamo lavorando, ci stiamo sporcando le mani, ecco, questa è l'idea. come questo, adesso vado su riepilogo, perché voglio andare a farvi vedere delle attività carine. Allora, clicco su studente, eccolo. Questa è un'attività carina, questa è un'attività pensata nel digitale, e con un minimo di storytelling. Alla tua festa, Marco Lucia, visto che si parlava della festa di carnevale, hanno in totale dodici castagnole, cioè quelle di prima, della ricetta di prima, e ti dice, Maurizio è colui che ne ha mangiate di più di tutti, e Lucia è colui che ne ha mangiate meno di tutti. Sai inoltre che Marco ha mangiato più castagnole di Simona, rappresenta il numero di castagnole che ogni amico può aver mangiato. Questi sono problemi pensati nel digitale, perché? Perché io questi slider, come faccio a rappresentarli in maniera dinamica su carta? Potrei disegnarli e vanno disegnati su carta, attenzione, non è che uno strumento o una tecnologia esclude l'altra, no, integra, arricchisce, con questo tipo di attività faccio altro. Però vi posso garantire che esiste la risposta unica a questo tipo di domanda? No. Giorgio dice, non prevede il negativo, o non l'ha fatto prevedere. Giorgio, sono stato io che ho previsto che non può essere negativo, perché altrimenti, nel momento in cui imponi uno slider in Desmos può essere negativo, come fai caso che si parla soltanto in maniera discreta, 4, 5, 6, 1, non è 6,5, perché magari è un'attività che è pensata, come si dice, può essere pensata per una scuola dell'infanzia, quindi non vorrei mettere 6,5 o meno 2, quindi, ecco, questa è l'idea, non so se... quindi queste sono delle accortezze che in lato di progettazione bisogna tenere presente, come qui, vedi, ho messo amici, castagnole mangiate, però la risposta non è unica, quindi non puoi copiare e puoi anche tu provare. Vediamo anche la domanda 5, vedi, allora si parla della festa di prima, dice guarda questo link e dimmi a che ora si tiene la festa. Questo link, come potete vedere, l'ho creato con GeoGebra. Ora, ovviamente questa è un'attività complessa da realizzare con GeoGebra, vi ho mostrato i numeri, però lato, come si dice, compito, attività per gli alunni, potrei dire così, perché magari sto insegnando a leggere le ore ai miei alunni, quindi ti dico che ore sono, vi faccio notare che posso anche aggiungere e sottrarre un'ora o generare un'ora casuale, quindi, Fulvia mi dice come si progetta, tra qualche minuto vi faccio vedere come si progetta, o meglio, come si usa lo strumento, perché la progettazione era quello che stavo dicendo all'inizio, prima di tutto ci vuole un'idea, un'idea creativa, ed è normale, più uno si allena, più uno vede idee di altri e più inizia a capire, ah, allora non è che devo dare soltanto la domanda statica, ma posso realizzare cose di questo tipo, come, ad esempio, tutta a top, ad esempio, questo poteva essere una domanda pensata in ottica di italiano, quindi ti do un indovinello e mi scrivi, e vedete qui la cosa carina, condividi con la classe, cioè non mi devo vergognare a dare la risposta a tutti gli altri che la possono vedere, quindi è un'ottica anche di natura collaborativa, questi personaggi, questa è una, proprio tipicamente pensata per la scuola dell'infanzia, cioè io ti dico, guarda le figure, il testo iniziale qui potrebbe anche non essere necessario se si sta in classe, però ti dico, rispondi, questo esercizio può essere facile, difficile, contemporaneamente, perché io ti dico, colore il personaggio usando quattro colori in modo che le due, che le, che le top in teoria, dove ho scritto male, che le top adiecenti sono di colori diversi, in pratica sto pensando al teorema dei quattro colori, qualcuno prima mi chiedeva delle tassellature e magari posso iniziare a colorare, però in un'ottica di scuola dell'infanzia ti dico, colora, ma ti do anche un algoritmo da rispettare, le toppe vicine devono avere colori diversi, è un po' come se ti stessi avvicinando al mondo del coding, potrei sempre in qualunque momento riandare sul riepilogo e vedere come e chi sta colorando, qui qualcuno sta colorando, eh no, sei uscito fuori dai bordi, potrei aiutarlo, ad esempio Sabrina, prendo la gomma e cancello, e poi dico Sabrina, magari mi raccomando, comando, eccetera, eccetera, colora bene, eccetera, le do un suggerimento, mi raccomando, è da tenere presente che lo vede soltanto la persona, quindi non è che tutti vedono tutto, questo è un altro video, può essere un'attività di natura trasversale, perché l'idea è parlare del carnevale, delle festività, qualunque cosa essa sia, ora mi dice, vedi, guarda il video e riassumi, e allora vuol dire, tutti i bambini ormai sanno che cos'è YouTube, non si è cancellato, probabilmente avrò fatto qualche cosa troppo rapida e non l'ho salvato, ti dico di guardare questo video, quindi, e poi ti dico di interpretare, di decodificare quello che dice questo video, adesso ho preso un video dello Zecchino d'Oro, ma potrebbe essere una canzone d'inglese e ti dico, ma che significa? Potrei vedere, vedi, Giulia dice che ha a che fare con il divertimento, il circo, il circo, tra lalà, divertimento, quindi, molto, questo evidentemente, questo video, la, la grande comunicazione che dà è il divertimento, ad esempio, qui Marzia ha scritto solo P e potrei metterle un punto interrogativo, cosa, cosa significa, eccetera, eccetera, quindi, e vedo insieme ci si diverte, quindi, parla delle, delle peripezie di Clot, probabilmente, del clown, del circo, insomma, questa è un'attività che magari è partita da matematica e poi piano piano va a toccare tutte le altre materie, dalle domande in poi sono delle domande classiche, cioè, classiche, insomma, si fa per dire dove qui spiego, si parla di covid, vado a vedere ad esempio Moreno alla domanda numero 10, eccolo qui, colora di rosso le regioni italiane e quindi, ma potrebbe essere semplicemente indica dove stanno gli appennini, colora in che zona si trovano gli appennini per capirci, così come domande del tipo la mia giornata, queste sono delle domande come si dice con la proporzionalità diretta e inversa, domande con immagine, adesso non voglio entrare nello specifico, non è questo il punto, questo è un altro esercizio simile a quello lì degli amici che mangiavano le castagnole, io ti do un compito, ma la risposta non è unica, tenete conto che è importante fornire degli esercizi dove la risposta non è unica, posiziona tre punti in modo tale che abc minore di zero, quindi io ti sto dando delle regole, poi a minore di meno 2, b maggiore di meno 5 e c è compreso tra i due, non esiste la risposta unica, vado a vedere come ha risposto Elisa e vedete come ha risposto Chiarina, risposte completamente diverse, ecco, dare risposte, le risposte aperte o meglio, problemi che hanno più possibili risposte certamente devono essere dati anche su carta, questo tipo di strumento ti aiuta e soprattutto ti dà un grosso colpo d'occhio nel vedere chi sta facendo cosa e dove è arrivato, vedete come posso cambiare in maniera molto semplice tutto quanto, ad esempio posso dire Sabrina è arrivata alla domanda numero 17 questo esercizio ad esempio è un esercizio di fisica delle superiori classica domanda da interrogazione agli esami di maturità quindi se avvicino allontano una calamita il verso della corrente quest'altra domanda per pura curiosità ero in giro per Latina aveva aperto un negozio di moda ma aveva colpito questa foto perché i palloncini erano in questo messo in questa maniera e magari io ti chiedo quali sono le forze in gioco non ti dico oggi ti spiego questo ma magari ti dico quali sono le forze perché magari ti ho spiegato i vettori però immaginiamo che mi trovo in prima media o in quarta elementare e voglio spiegare il concetto di metodo scientifico di ipotesi quindi non è che devo essere necessariamente rigoroso potrei chiedere anche semplicemente a un bambino ma perché i palloni sono così fai la tua ipotesi e non ti dico che se è giusto o sbagliato quando si fanno ricerche quando si fanno esperimenti nessuno dice è sbagliato e giusto lo sbagliato e lo giusto e il giusto te lo dà la fine dell'esperimento cioè se la tua ipotesi viene verificata o no perché magari in questa maniera ci sarebbero meno terrapiattisti ecco Chierina dice ci si possono fare le addizioni sulla linea dei numeri sì sì l'ho anche preparata ecco questo è il caso in cui potrebbe essere utile la mail ora non ne voglio parlare dell'addizione sulla linea dei numeri però ne possiamo riparlare tranquillamente mi mandi un'email e ti faccio vedere come si fa senza problema quindi e poi guarda l'immagine ad esempio qui ho storia dell'arte chi è questa immagine è fidia ditemi sì no boh non me lo ricordo più è fidia questa immagine questa potrebbe essere carina come cosa perché magari io che ho fatto questa attività non mi ricordo nemmeno la risposta magari in chat qualcuno mi scrive sì e no è giusto e no non a caso ho lasciato questi collegamenti ipertestuali perché perché al di là della carta io posso fare questo cioè la carta non posso cliccare andare altrove ma ti posso dare delle informazioni aggiuntive noi viviamo in un mondo dell'informazione a volte siamo inondati da informazioni il saper capire e distinguere cosa è utile cosa non è utile per un determinato nostro tipo di ragionamento scopo non è affatto banale magari è utile andare a cliccare su al camene boh non lo so bisogna vedere qui le cose si fanno un po' più complesse questo è un esempio di disegno pensato per le scuole superiori e le domande sono pensate per scuole superiori quello che che importa adesso è pensare che posso mettere un'immagine del testo e anche dei multiple choice cioè anzi questo è un checkbox cioè dare risposte e verificare quali sono le proprietà di questa immagine di nuovo l'esercizio ha come si dice risposta aperta disegna un quadrilatero di no questo non è risposta aperta ti dice disegna un quadrilatero di perimetro 8 e area massima quindi qui o dico beh fai la derivata eccetera oppure provi sperimenti Angela Anatoly dice come si preparano tutte queste attività cara Angela quando ho fatto il corso no non è vero cioè a un meglio la tua collega Rita aveva inviato già tutto quanto non ti ha quanto pare condivise il corso ora che vi ho fatto vi ho dato un'idea vi faccio vedere come si realizza tutto quanto allora torni indietro cliccando qui passo numero 1 voglio condividere con voi questa attività così avete un esempio guida voglio condividere non che collaborate perché se collaborate poi arriva qualche disgraziato che mi cancella le domande perdo tutto invece cliccando condividi attività ctrl c faccio rivedere i tre puntini in verticale marzia tre puntini in verticale condividi l'attività copio ve le metto in chat cliccando all'interno di questa attività ognuno avrà la propria copia e questo diventa comodo perché io ho realizzato un'attività voi adesso come si dice come creative comments fate quello che vi pare modificate organizzate al vostro piacimento però avete una guida ripeto se avessi fatto collabora invitavo qualcuno di voi a lavorare sulla stessa attività in quel caso in questo caso no perché poi ripeto questo tipo di compito me lo rigiocherò di nuovo importante riandando su i tre puntini modifica attività abbiamo no scusate in alto personalizzate eccolo qua bastava cliccare vi faccio vedere quante volte ho utilizzato questa attività che si è evoluta nel tempo la prima volta l'ho usata il 13 novembre poi il 20 il 30 novembre oggi il 21 gennaio anche il report delle persone terminata questa questa attività magari entro in un'altra classe passa un nuovo anno voglio riassegnare come si esce da studente dove c'è qui il triangolino disconnetti nel dubbio ci si disconnette se hai fatto il login studente questa attività che ho realizzato me la voglio rigiocare di nuovo molto semplice codice creo un nuovo codice se io creo un nuovo codice vedete che appare zero studenti quindi ho di nuovo l'attività bella pulita che me la posso rigiocare ma non solo cliccando su mostrami la dashboard ho di nuovo il codice il link per lavorare tutto bello pulito posso vedete riorganizzare il mio lavoro adesso non è non è questo il caso ma perché voglio creare da zero un'attività quindi mi raccomando vado sempre su personalizzate cliccando sull'attività vedo tutte le volte che l'ho utilizzata la posso archiviare dare il link agli studenti ma la posso anche modificare modifico quindi sempre di tre puntini in verticale ci serve ora voglio creare un'attività da zero quindi e quanto serve veramente cinque minuti e Roberta la condivide con noi ve l'ho già condivisa Roberta lo rifaccio di nuovo condividi attività copia e incolla ve l'ho messa in chat qui lo riscrivo di nuovo perché può essere utile adesso iniziate a capire perché agostino.perna chiocciolagmail.com potrebbe tornarmi utile tra qualche settimana tra un anno che vi devo dire perché magari ho visto delle cose ma non ricordo tutto e quindi oppure no voglio fare quel tipo di cosa allora mandami un'email cioè questo è il mio lavoro allora crea un'attività da zero vado su personalizzate nuova attività allora la chiamo carnevale 20 21 posso dare una descrizione posso dare il link e lavorare insieme a qualcun altro non voglio lavorare con nessuno per ora e creo una nuova attività allora vedete qui schermata ecco quello che posso utilizzare il suggerimento è partire dalle cose semplici iniziamo allora da nota e inserimento testo nota è il testo del problema magari potrei scrivere descrivi il giorno di carnevale sto a casa perché c'è il covid potrei mettere un testo vi faccio notare che posso mettere anche un link oppure descrivi il giorno di carnevale di questo personaggio che trovi su internet magari vado qui youtube potrei fare carnevale di venezia dovrei sempre guardare con attenzione di che si tratta perché poi potrei fare figuracce supponiamo che questo video può essere comodo mi copio il link quindi ritorno nell'attività descrivi il giorno di carnevale che vedi nel video e metti il link questo mica si può fare su carta quindi mentre tutti sono abituati ad avere il cellulare in mano vedere youtube vedere instagram e poi però nel mondo scuola il cellulare è il demonio e il demonio magari non gli trova anche un'attività didattica questo significa che non è che adesso il cellulare è santificato no per alcune cose può essere utile io ti dico guarda clicca sul link e poi descrivi l'attività attenzione qui nella funzione nota è il testo del problema per capirci con inserimento testo è qui che la persona va a scrivere vedete con questi tre lineetti viene chiamato fafico chiamarlo sandwich con queste tre lineetti posso spostare ma posso riordinarlo mettendolo destra sinistra per capirci me lo posso organizzare come mi pare mettendo la spunta mostra agli studenti le risposte dei compagni vuol dire ti ho dato un'attività prova a dire la tua non è importante se dici giusto o sbagliata quel che conta è che ci provi e poi quello che scrivi lo vedono anche gli altri questo lo decido io insegnante se mettere o non mettere questo tipo di opportunità a volte può essere comodo a volte no voglio vedere quello che sto realizzando vado su anteprima ecco come appare descrivi il giorno di carnevale se clicco sul link tac parte il video è inutile dire che se conosco tutto il mondo dei tagli dei video metto i dieci secondi che esattamente mi interessano può essere utile ma quello è un altro discorso la persona scrive qui all'interno all'interno del testo potrei scrivere domanda 1 oppure iniziare a lavorare in maniera di storytelling il carnevale è alle porte al posto della freddissima domanda numero 1 finito ad esempio la prima domanda è guarda un video e rispondi domanda numero 2 vorrei aggiungere un disegno no? vorrei prendere il disegno che ne so disegno unisci puntini e metto carnevale io non sono un esperto di di queste cose però diciamo un'idea può essere comoda adesso prendo veramente la prima cosa che che viene in mente che trovo che ne so prendo questo bruttissimo cioè è già praticamente finito oppure quest'altro prendo questo adesso non voglio perdere tempo quindi l'idea è vado su internet mi trovo un'immagine me la salvo me la vado a salvare qui in download ora nel disegno ripeto ho preso la funzione disegno la furbata è qui dove c'è sfondo voglio lo sfondo personalizzato clicco sullo sfondo personalizzato e mi vado a prendere il mio bell'unicorno eccolo qua bellissimo spettacolare potrei fare delle una serie di domande potrei dire inventa il nome di carnevale della figura che vedi e aggiungo anche un testo vediamo come appare anteprima quindi ho il disegnetto e poi magari ti voglio inventare un po' si vabbè l'unicorno ma dire unicorno può essere un nome da carnevale no brutto ci voglio ragionare un po' cioè sono cose dal mio punto di vista molto molto stimolanti andiamo avanti voglio aggiungere una scelta multipla allora per scegliere una scelta multipla ho bisogno di un testo quindi mi raccomando nota prima di tutto e io dico la mamma di luigi compra 40 dolcetti ne e ne da la metà a a luca la metà della metà al papà al papà allora sonia dice nel frattempo non ho capito come hai copiato il disegno e dove lo hai inserito lo faccio rivedere sonia al papà comunque di questo ho fatto il video ci sono i video tutorial comunque lo faccio rivedere la mamma di luigi compra 40 dolcetti sto inventando sul momento e ne da la metà a luca la metà della metà al papà ed il resto a luigi c'è la possibilità di incorrere no non c'è la possibilità di inserire la correzione automatica no in questo caso no perché questo tipo di attività è pensato più per un'attività per simulare io insegnante giro tra i banchi perché ti ho dato un'attività in classe quindi no non c'è in questo caso quindi rispetto a google moduli offre molte più opportunità sì in questo caso chiarina sì perché questo è pensato per un'attività di natura matematica che poi inizia a collaborare con google classroom questo fa capire che google ha molte intenzioni si può inserire la valutazione diretta allora potrei dirti innanzitutto angela io non so che cos'è la valutazione diretta quindi boh non lo so però non pensate non associate la valutazione all'attività di desmos no desmos non è pensato per la valutazione desmos è pensato per far lavorare gli studenti che poi io ti voglio far lavorare un altro paio di maniche e ti voglio mettere il voto un altro paio di maniche ma non c'è la cosa di come in classroom per capire in google moduli o in panquiz ce ne sono migliaia dove fai e ti dà sì giusto o sbagliato no tranne le multiple choice o le risposte a crocette ma in quel caso sarebbe riduttivo utilizzare desmos in questa attività quante ne ha luigi e potrei mettere opzione 1 10 5 1 adesso sparo a caso supponiamo che la risposta corretta sia 10 non ho fatto nessun calcolo non mi interessa adesso vedete qui la cosa interessante chiedi allo studente di motivare la risposta e in più mostra agli studenti le risposte dei compagni potrei toglierla o non toglierla vediamo come appare quindi do una risposta supponiamo metto 5 ma devo anche motivarla nel momento in cui scrivo io singolo studente se voglio posso condividere con la classe se invece metto qui tolgo la spunta vedete ho tolto la spunta e vado su anteprima non posso condividere con la classe cioè è mia e basta però lo sappiamo tutti quanti che in classe quando uno dà un problema ci si gira ah oh a te come è uscito questo esercizio oppure come si fa ma anche a te esce 7 è una cosa naturale la cosa bella dello stare in classe dove si lavora insieme ecco questo non è la stessa cosa ma ti aiuta a simulare questo tipo di attività anche a casa vi faccio notare che quando creo una domanda scelta multipla potrei al posto di mettere i numeri anche mettere le immagini cioè io potrei aggiungere in una risposta l'immagine supponiamo che che dico che quante ne ha Luigi poi scrivo in il dolcetto si chiama frappa per capirci o chiacchiera individualo 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 allora se io preparo le addizioni con la linea dei numeri i risultati sono sbagliati meditenza li devo venziare io allora dipende come lo imposti chiarina però ne possiamo riparlare senza senza problemi in quel caso se vuoi che viene una cosa bella robusta che la utilizzi ti posso dire che ti posso dare cioè ti posso dare tranquillamente una mano e lo si realizza con GeoGebra se è l'attività singola allora il dolcetto si chiama frappa allora voglio trovare delle immagini allora quindi vado qui scrivo frappa salvo immagine ne prendo un paio solo di prova e poi prendo un altro dolcetto di carnevale struffoli salvo l'immagine le sto salvando sul mio computer nella sezione download e poi prendo le famose castagnole ho dovuto studiare per capire quali erano i dolci di Natale che non me li ricordavo più e salvo allora per aggiungere un'immagine e così posso rispondere anche alla domanda che mi era stata fatta prima sì lo faccio vedere Fulvia come si fa anche le formule di matematica è di una semplicità unica quello sarebbe il livello successivo allora dove c'è scritto immagine perché magari è un'attività pensata per quelli più piccoli che ancora non sanno scrivere clicco sull'immagine e vai fatto devo fare a nient'altro poi di nuovo più apro di nuovo più e apro e devo dare la risposta corretta le frappe sono queste quindi dico che la risposta corretta è questa vedete contrassegna come esatta vediamo cosa accade eccolo qua la mamma di Luigi ha i dolcetti quindi magari la risposta corretta è questa e poi dico quali sono le frappe quindi ti faccio vedere si può fare corrispondenza sì si può fare anche la corrispondenza motiva la risposta perché le frappe quindi educo alla descrizione è un'educazione all'immagine se uno ci pensa dire sì quelle queste sono le frappe perché sono le frappe da cos'è che lo riconosci quindi ti passo da una domanda di matematica ad una domanda di descrizione di sapere interpretare quello che io ho di fronte allora vediamo adesso e per quanto riguarda la corrispondenza sì c'è vediamo un po' più adesso non lo vedo più c'era carte eccolo praticamente verrebbe o questo o elenco da ordinare però mi sembrava che c'era anche la corrispondenza magari potrei dire una vero o falso sì il vero o falso sostanzialmente è un checkbox con o uno o l'altro con due indicatori quindi non non c'è assolutamente problema allora vediamo un grafico e mettiamo anche le formule allora voglio aggiungere un grafico magari dico voglio vedere il numero di invitati alla mia festa al passare dei minuti quindi quante persone ho all'interno della mia casa tanto per dire ora qualunque cosa nel grafico scrivo y uguale 3x ho disegnato una retta la cosa forte di Desmos che se vado a riscrivere y uguale 3x andando sulla rotellina metto in evidenza anche la tabella bellissimo io lo reputo spettacolare una cosa di questo tipo cancello un po' di valori lascio ok lascio soltanto meno 2x6 clicco fatto iniziamo a vedere quello che accade se clicco su anteprima mi viene soltanto così cioè e già magari potrebbe essermi utile per un tipo di domanda questo è un passaggio delicato bisogna guardare bene questi tre puntini sulla destra cliccando sui tre puntini vado su elaboratore grafico quindi questo mi serve queste già sono delle attività pensate per terza media superiori ecco per capirci ok e poi dico grafico vediamo quello che accade anteprima non ho salvato allora ho la chat di fronte elaboratore grafico grafico disegno disegno allora utilizzando la funzione disegno potrei dire di questa di questa retta indicami la parte che si trova al di sopra dell'asse delle y al di sopra con y maggiore di 0 per capirci e potrei dire vedi ci vado a disegnare sopra la regione è questa tanto per dire oppure modifico il grafico tolgo la tabella e scrivo y uguale a per x alla seconda e aggiungo uno slider clicco fatto di nuovo i tre puntini converti in elaboratore grafico e vado su anteprima questa è una domanda dinamica allora si può usare questo grafico per rappresentare le indagini si certamente marzia ed era quello che ad esempio l'indagine che avevo fatto inizialmente era quello di quante cassagnole i bambini si erano mangiati alla festa di colui che aveva organizzato quindi certamente si si può fare guardate che forte quindi potrei realizzare compiti dinamici magari ti dico di scrivere una parabola e una retta in modo tale che la parabola sia rivolta verso l'alto e la retta sia esterna alla parabola per fare questo modifico la retta al posto di y non uguale 3x scrivo c per x introduco i parametri quelli che poi nel mondo del coding saranno le nostre variabili cx più d vediamo quello che accade qui non esiste la risposta madonna che figata è antosi è vero è forte immagina che io ti dico voglio una parabola rivolta verso il basso e la retta sia esterna allora la parabola rivolta verso il basso ma può essere così ma come può essere così la retta esterna può essere così no perché secante deve essere per forza fuori ma io potevo dirti la retta deve essere esterna e coefficiente angolare negativo quindi la retta decrescente quindi posso fare una serie di osservazioni non è il caso non lo dico ora ma per chi vuole questo tipo di funzioni le posso generare in maniera randomica provo un piccolo scenno però fate finta che io non abbia detto nulla guardate x alla seconda più y alla seconda uguale anzi no prima devo imparare a scrivere random inserisci ok allora guardate quello che faccio se io scrivo random1 sto generando sto generando un numero casuale con random1 ora gli do un valore che lo chiamerò r tanto per dire qui andiamo nel più tecnico pensatelo per i più smanettoni non è adatto all'infanzia scrivere floor di random1 a parte che è una funzione di funzione quindi è una funzione composta quindi se sto alle superiori ma che è una funzione composta eccola quindi il coding mi può essere utile floor di random1 mi sta dicendo chiamiamolo w se no non lo capisce genera un numero casuale tra 0 e 1 e poi mi fai la parte intera e allora moltiplicherò per 4 anche python sì purtroppo python è una cosa spettacolare ma quando faccio piccole cosettine di python per i miei alunni mi seguono in due perché ripeto io so sempre insegno sempre matematica quindi non puoi allargarti più di tanto floor random1 per 4 vuol dire genera un numero tra 0 e 1 a caso quello che esce lo moltiplichi per 4 e poi ne consideri la parte intera poi magari vado a scrivere y uguale x quadro per capirci poi più w per x guardate quello che accade alla parabola questa nera supponiamo che la blu non mi serve quindi la cancello la nascondo non la cancello se vado su anteprima la parabola eccola qui se rivado di nuovo su anteprima la parabola è diversa se aumento qui diventa per 5 genera ogni volta la parabola in una maniera casuale guardate ogni volta varia quindi però qui stiamo parlando livello professional però per farvi capire che esiste anche questo tipo di attività poi voglio scrivere un testo magari qua scrivo semplicemente testo del problema oppure potrei aprire un ebook fare lo screenshot dell'ebook e inserirlo quello che mi importa è la risposta nella risposta inserimento testo lo metto di qua eccolo questo elimina blocco che non mi serve vado su anteprima per scrivere una domanda una che so x alla seconda fratto 2 devo utilizzare questo comando mi appare direttamente la funzione x fratto 2 meno x elevato alla x alla 2x quindi proprio molto molto semplice utilizzando o inserimento testo o semplicemente input espressioni guardate andando su anteprima qui metto il testo cioè o meglio il testo del problema è quello che deve essere scritto qui qui devo dare la risposta che è pi greco r quadro vado sulla tastiera pi greco r quadro pulito semplicissimo io non devo conoscere necessariamente il latex per rispondere a queste cose una volta che ho finito tutto attenzione che è un grave errore che io continuo a fare in continuazione non è chiudere perché qui sono ancora in modalità progettazione ma devo pubblicare perché se non pubblico tutto il lavoro che ho fatto l'ho buttato questa cosa è fondamentale una volta che ho fatto questo posso andare in anteprima studente per capire un attimo se quello che ho fatto ha senso allora Antonio come faccio a scrivere le equazioni certamente allora devo riattivare la modifica quindi tre verticale modifica attività quindi devo sempre rimodificare più allora la metto alla fine la domanda potrei mettere un un'immagine un video qualunque cosa essa sia ad esempio ho voluto mettere un'immagine voglio mettere un'espressione perché magari ti dico calcola il volume del nastro di mebius che ottengo con queste frappe qualunque cosa mi viene in mente basta aggiungere riquadro input espressioni qui posso scrivere soltanto espressioni con inserimento testo lo metto qui sotto eccolo invece posso scrivere del testo e anche le espressioni vediamo qui vado a scrivere radice di seno di x per capirci qui invece dico usando il teorema piru piru eccetera eccetera allora ottengo la formula che è inserisci espressione a parte sono pronte già ce ne sono tante però magari voglio scrivere pi greco fratto 1 2x molto simile a geogebra da questo punto di vista no Antonio perché geogebra richiede l'uso del latex io poi uso un trucchetto per la geogebra apre delle caselle di testo ma non è così usabile come geogebra da questo punto di vista geogebra è la corazzata io ho fatto faccio un miliardo di cose su geogebra però in un'ora puoi immaginare che non si fa nulla questo tipo di attività è unica nel suo genere pubblica sempre perché altrimenti perdo tutto una volta che ho fatto questo terminato se clicco collabora invito ad esempio Antonio a lavorare insieme a me su questa attività se clicco condividi ctrl c la metto qui all'interno e vi condivido anche questa attività l'ultima cosa e poi mi fermo ve la lascio qualche minuto per le domande è la gestione delle classi perché questa è una cosa molto interessante clicco su gestioni delle classe aggiungo una classe se io a scuola ho google classroom sto a cavallo collego le classi mie di google classroom con desmos quindi non devo fare proprio niente altrimenti do un nome di classe classe di carnevale ma potrebbe essere un'attività di recupero di rinforzo immaginate per tutta la scuola ma potrebbe essere per tutta la regione Lazio questo tipo di attività aggiungo classe allora l'ho chiamata classe di carnevale in questo caso agli alunni io che faccio una sola volta gli do il codice o il link quindi cliccando qui potrei dire cari alunni il primo giorno di scuola ecco il link vi assegno alla classe di carnevale nel momento in cui li ho inseriti in questa classe quando ho le mie belle attività vado su desmos in azione ne apro un'altra voglio assegnare questa attività ad una classe clicco assegna alle classi a chi la voglio dare questo tipo di attività a tutti coloro che sono iscritti alla classe di carnevale ma anche alla primo A e alla quarta A per capirci clicco assegna e in questo caso magari posso giocarmi la stessa attività in modalità asincrona cioè io ti dico hai da oggi fino a 4-4 giorni per risolvere questo tipo di attività e tu la fai tranquillamente non necessariamente devo essere sincrono per risolvere perché poi posso comunque ritornare e rivedere con calma di che si tratta allora io interrompo la condivisione siamo arrivati a 121 quindi questo mi fa piacere che non ho perso o almeno si spera non vi abbia annoiato vorrei lasciarvi qualche minuto per porre le domande e poi vi do vi condivido anche la playlist quindi quello senza ombra di dubbi chi vuole vedere qualche attività che faccio sicuramente queste le faccio sia per per l'equip ma per qualunque altra cosa chi ha facebook può comunque andare all'interno di facebook qui è una pagina aperta ci sono 20.000 follower pm dice posso mettere il link sullo stream dal mio punto di vista ci potete fare quello che vi pare non c'è assolutamente problema allora anzi posso bloccare la registra